Dopo i fuochi di apertura delle 4 del mattino nella tradizionale nottata lancenese, la città si appresta a vivere le tre serate clou delle feste di settembre. Questa sera in piazza Plebiscito ci sarà il concerto di Francesco Baccini, mentre la novità della 186esima edizione con i posti a sedere a pagamento è tutta per i concerti di Max Gazzè domenica sera e di Malika Iane lunedì, per i quali i biglietti sono quasi tutti esauriti. I posti a pagamento occuperanno metà della superficie di piazza Plebiscito, per il resto posti in piedi gratuiti. Per le sere di domenica e lunedì il comune ha messo a disposizione, attraverso la collaborazione con la Difons Autolinea, il servizio navette gratuito dalle 19 fino alle 2 della notte, con due parcheggi di scambio agli ingressi est ed ovest della città. Il programma religioso del settembre lancenese invece si chiude con la solenne processione mariana in onore della Madonna del Ponte, patrona di Lanciano, lunedì alle ore 19.